Sono stati pizzicati lungo l'autostrada del Sole con 400.000 euro stipati all'interno dell'auto, banconote da 150 a 20 a 10 euro suddivisi in fascette, ma delle quali non sono riusciti a spiegarne la provenienza. Sono così finiti nei guai due fiorentini di 31 e 32 anni residenti ad Impruneta, fermati dalla polizia stradale di Arezzo lo scorso venerdì mattina. Alla richiesta dei documenti, i due infatti sono apparsi troppo nervosi e a quel punto gli agenti sono andati a fondo. Dal bagagliaio ha spuntato fuori un trolley nascosto sotto alcuni vestiti con all'interno le banconote in tutto 387.000 euro, costruite in più mazzette termosaldate con tanto di rendiconto annotato in appositi foglietti contrassegnati da parole in codice. I due non sono stati in grado di giustificare il possesso dei soldi, la postrada li ha denunciati per ricettazione sequestrandogli la vettura e quasi 400.000 euro. Grazie. 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 Grazie.